Non è possibile, abbiamo lavorato molto duro per il risultato, ma ancora gli ultimi 15-20 minuti abbiamo sbagliato e siamo molto delusi. I tifosi sono molto speciali, sono sempre là, i tre punti sono molto importanti e adesso non abbiamo preso. Fino alla fine non dobbiamo malare, ma dobbiamo fare di più, sono molto arrabbiato e ogni settimana abbiamo una nuova partita, ma abbiamo bisogno di punti di più. Grazie a tutti.